Ciao, questa è la mia giornata di ieri, ovvero giovedì. Mi sono svegliata e ovviamente ho fatto una regolazione, non si salta mai, è arrivata pure mia. Poi sono salita e mi sono preparata che dovevo andare a montare Bimbo e la cavallina nuova, che ripeto non è mia, e in finiti passeggiava. Poi sarei dovuta correre a Tortona perché avevo il warm up della Pina che stiamo a fare il circuito dei cavalli giovani. Arrivata in maneggio ho montato subito la cavallina nuova che si chiama Queen, poi ho caricato la Pina che intanto partiva sul mio camicino per Tortona e poi ho montato il mio Bimbo Bambolo che, ragazzi, lui è Bimbo Bambolo, lui top. Ha fatto solo un po' di trotto perché è stato infiltrato per i campionati italiani di settimana prossima! Vabbè, niente, poi io sono tornata a casa. Ah no, aspetta, aspetta, no, aspetta, a queste infiniti che mangio un biscotto ve lo spiaccica proprio davanti. Gnam, 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 vabbè. Poi sono tornata a casa carica come un mulo. Ai 12 e mezzo ho mangiato al volo un pane tostato, uova e avocado. Gnam, che buono! E sono partita verso Tortona! Dove mi sono subito rifugiata in un box perché è grande in Ava, ragazzi, già sono nel Tugurio praticamente ed era tutto allagato. Per fortuna però ho fatto il warm-up, non sotto la pioggia, ma il camper ha molto bagnato, però sti cavoli c'è la pina troppo top, top ha saltato benissimo. Da qui dopo la riviera, ui, 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 vabbè. Dopodiché ho sistemato tutto perché non ho portato il cassone, ho portato questo valigione in cui ci ho messo di tutto. Ho pulito i miei stivali perché erano non l'erci di più, faceva proprio schifo. Poi ho dato acqua perché non abbiamo manco i beverini. Ho dato acqua e poi basta, sono tornata a casa ma non ho più registrato. Vabbè, questa è stata la mia giornata. Ciao!